Prosegue la discussione sulla città unica Cosenza rende gastro libero. Della proposta di legge se n'è parlato in prima commissione del Consiglio regionale, nella cui ultima seduta sono stati auditi i parlamentari Mario Chiuto, Anna Laura Orrico e Fausto Orso Marso, i sindaci di Cosenza e Montalto, Franz Caruso e Pietro Caracciolo, oltre a diverse associazioni civiche del territorio. Un confronto propositivo che ha colto i diversi pareri sulla proposta e ha dato spazio anche all'analisi del professor Sergio Luigino, esperto in direzione al governo degli enti locali, che ha illustrato, si legge nella nota stampa, i vantaggi della fusione, offrendo alla prima commissione consigliare una sorta di studio di prefattibilità. L'iter legislativo prosegue, conclude la De Francesco, sempre nello spirito di assoluta terzietà, nella consapevolezza della sovranità dell'Assemblea.